Oggi che giorno è? Venerdì Buon venerdì Oggi è venerdì? Sì Oggi è venerdì? Sì Ieri che è? Giovedì Eh sì, non c'era nel video Buon venerdì C'era pure ieri Non era detto così Però c'era Venerdì buono a tutti Continuiamo con noi La roba che non si nota La roba che è sul Da sistemare Fate finta che non ci sia Fate finta che non abbiamo tirato un calcio di rigore Anzi che non ci ha notato il rigore Va bene Ciao a tutti Dal vostro amichevole nano della rete Siamo qui Alla Di Trani Per Aggiungete voi qualsiasi cosa Sì, di mettere qualsiasi cosa Cioccolata Caffè Per questo nuovo video con i nuovi arrivi Come sempre vi ricordiamo che abbiamo tutti i link in descrizione Poi se ci volete dare qualche link lo aggiungiamo nella descrizione E andiamo a vedere che cosa è arrivato di nuovo E partiamo subito con la bomba Subito con una bomba BOMB Non di arrabbiare No perché bellissimo Dalla Mente di Alamur Dalla penna di David Riott L'absoluto Viper vendetta Uno dei migliori Fumetti Mai ricreati E che è diventato Un Un collo Sanno Nel mondo del cinema Interpretato Dallo Da 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 Mi ricordi non l'attore Mai Smith Di Matrix Fichissimo Veramente Questo è un Cavolo Di pezzo Da collezione Che si unisce A quelli di Batman Dato che si vede anche il formato Comunque Queste sono le cose belle Della Palini Una su dieci Ne fa Ah anzi Me ne andate a prendere Sul sito della Palini I fumetti Ma andate nelle vostre fumetterie Non me ne fregate I gadget o di altro Veramente Sono dei maledetti Eccolo qua Due copie E questo è l'altro Che vi avevo nominato Che E' l'Arcam Assylium Poi è uscito anche quello di Killing Joker Bellissime Che comunque il prezzo Giusto per Cronaca Del vissuto E del giornalismo Viver vendetta Sa 45 euro Mentre Al Calisidum Sa 30 euro A me va Si vede una differenza Molto più Spesso E volentieri Andiamo avanti Con 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 Questo Qua abbiamo un lato bellissimo Omnibus Dei Fantastici 4 Di John Byron Qua ci sono tutte Quasi tutte Le avventure Le avventure Dei Fantastic 4 Dal pennino Di John Byron Questo è il volume 2 Quindi il continuo di qualcosa Si E può essere sempre un'arma O un paraproiettili Quindi Continuando sempre con Paraproiettili è sicuro Per quanto è dopo Con Con Bei Fumetti Dove trovarli Bei Fumetti In Tutta la serie Eh Voi da capire No No E' sporco No E' sporco E' sporco C'è Io Andrei Su Twitch Sono per Pessemiane Giuro Ma Per Pessemiane No Proprio imprecare Qualsiasi divinità O Capriane No 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 Si 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 Se lo fai No No Veramente Comunque Cioè Bu Bu Ci più parole Veramente Poi Punisher Sovieto Che questo è stato Un ricambio Perché L'altro ci vende tutto Ci arrivò tutto stroppiato Speriamo Idem per Lucifer Sicuramente Non andremo a rimandare indietro Eccola qua La fine del mondo Prima dell'alba Di No La fine del mondo E' prima dell'alba Ah ok E' prima Di Ignasano Autore che ha fatto Serie come What a wonderful world Che sempre è una canzone 12 euro e 90 Per tutti coloro che Da qualche parte In questo mondo Aspettano L'alba Io Amazzo Aspetto A Jessica Alba Amici Poi c'è Batman Hanno 1 Ah figli Questa è una delle nuove action figure della BST AXN che non è male rispetto o no Io vorrei vedere la faccia di L'uomo Sento paura Poi Storie Finale di partita Non lo voglio Mannaggia Ogni riferimento E' sempre fatto apposta Hard 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 Inglesi E' una volta che sta la A La devi pronunciare Hard Dime I vari volumi Hai visto Peppino? Te lo fatti arrivare IQ numero 32 Black Love numero 5 abbiamo un po di arretrati vari bello e viso kira è arrivato capelli appuntiti blitz atelier wichette at dotto stone tokyo goal mi come se vigno andiamo avanti e non mi prenderemo sì no e lo so lo so è già mi prende così di certa gente poi si mettono pure gli editori tutto in giro la promessa della rosa numero 5 bello un bel recupero summer wars complete edition 14 90 un tre volumi buono ci sono tre volumi l'interno e illumina il nuovo mondo sempre la il romanzo se quel di tetro la sua moglie di arretrati assassini socrassi un demo 3 e 11 l'attacco di giganti 7 vari naruto il mito l'attacco di giganti 31 detto 9 giugio su case numero 1 giugio su case numero 4 tutto quello che noi possiamo ordinare lo facciamo o agame ga kill numero 8 allora cambiamoci jx ok va di giu jutsu va di attack on titan ma vedete acm Tokyo co questo è più pulsella è bello un curioso taglio di capelli quelle tette tette tenere vabbè vabbe ma li stai mettendo sopra occhi hai chiù Proseguiamo con Mairo il numero 26 che è già diventato arretrato, Naruto 42, un po' di arretrato di Naruto, che figa, una delle copertine più belle. Quella è da colorare. C'è il numero 2. Ah, ok, la musica. Perché? Cosa hai pensato? Un telefono. Ma ci ce l'ho io. E un altro telefono. Platinum Hand, Black Clover. Proseguiamo, proseguiamo con Asadoro numero 2, Akamika Kill numero 15, grossissimo, Atelier Fabricette 7, Berset Collection. Non ho letto 49. Come ho detto? Eh, vai, si è perdita, ma non esiste. Asadoro 1, i vari Berserk, aspettando gli altri cofaretti. Eh. Facciamo i cofaretti. Boh, 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 Spy X Family numero 2. Ahia! Che bella. Allora, poi, Aikyu numero 31, Chance Pen numero 2. Eh. Sono qua. Jujutsu Kaisen numero 4, Bleach numero 1, La Buonanna. Gli altri dati a contata, però, quanto i primi volumi, mi è arrivato solo il 2, 1, 2. Gli altri dati a contata, Giujutsu Kaisen numero 6. Vale veramente la pena, e poi gli arretrati vari, e soprattutto, l'Action Beagle di Fulmere Anarchi, Fulmere Anarchi, Fulmere Anarchi, con il nostro Edward. Ficchissimo. Detto questo, ho detto tutto. Grazie mille per la visione, dal vostro amichevole nonno della red, al prossimo video, ve la voglio.